Amici, velocemente caffè nel mio bar e vado da Giada tardi, non c'è tempo di fare il caffè a casa poi nel bar è meglio osserva Giada, osserva studia studia drago, questo drago lungo 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 guardate come lungo, non finisce ho preso nel gola, te per la gola, Giada non stringere forte non stringere forte Giada, vedi, piange drago Giada, come stai? Guarda qui, panino per te panino è qualcosa io assolutamente non lo so che dentro c'è scopriamo insieme non ho visto che c'è vediamo come Giada oh, subito da bere questo bene guardate come ragazza autistica sa aprire tutto abbastanza brava, si si, si, bravissima Giada, non sapevo guardate voi fa dritto guardate Giada, io sempre nuova scoperta cosa faccio? non sapevo che sei così eh, perché questi canucci fanno di carta e si, si piega si piega e lei non ce la fa ora devo aiutare io assolutamente eh, vedi lei prova, prova non entra, vedi capisci Giada vedi? mamma mia dovevo fare io Giada guarda qua sgocciolato tutto sgocciolato tutto perché questi canucci non fanno più di cotone guardate, guardate che sete ce l'ha questi canucci da buttare ora perché non valgono niente proprio sporcata tutta ora ti aiuto io Giada infatti non si beve questa canucci, io non bevo questi succhi di frutta ma già mi ricordo seconda volta Mosca che questi canucci eh, già hanno non è di plastica si diventano subito morbidi non è adatti per queste cose qua ora se lei non ce la fa bere qui c'è spazzatura sì, perché una volta io ho riportato a casa non si riusciva a bere poverina ce l'ha sete meglio dare acqua bottiglietta di acqua questi frutti succhi di frutta danno fanno solo male e basta poverina Giada te avevi sete tanto ti vedo anche occhi più grandi sei proprio avevi tanto sete mamma mia meglio acqua così almeno bene eh non ho bevuto quasi bevuto sì che ce l'hai ancora vediamo che c'è perché c'è ancora qualcosa ne sono curiosa anche io quale merenda ti ha dato mamma no 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 apri tu 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 Giada tieni vediamo se ti piace provi Giada devo aiutare un po' devo aiutare tieni tieni Giada tieni questo tieni questo Giada questo dai a me carta a me non vuole non vuole non vuole questo Giada no ma c'è qualcosa buono Giada non vuole devo aprire devo aprire io Giada devo aprire io vediamo vediamo se ti piace ecco così perché lo so che è fame lei eh che cos'è Giada? fai vedere pane e prosciutto panino con prosciutto Giada ha mangiato tutto tutto vero Giada? ecco ecco la mia zucca preferita questa qua questa migliore questa non ho assaggiato questa 99 costa cacchi una scatola di cacchi e soprattutto cipolla voglio fare questa tropea abbiamo preso due cipolle due euro mamma mia costa tanto questa cipolla di tropea mi piace tanto questo questo vogliate comprare yogurt io questa voglio fare giuppa questo cipolle rosse finocchi è bello questo due euro costa foglia di tropea e che cos'è? mele e soprattutto questo questo tre euro due chili sì il parmigiano costa tantissimo ma non c'è offerta piccola spesa di 30 euro amici pochino pochino di più 31